E' deceduto ieri sera Vincenzo Biondi, medico in pensione classe 1952, schiantatosi al suolo in fase di atterraggio con il suo paracadute presso l'aeroporto di Ponte Cagnano lo scorso 12 gennaio. Le lesioni riportate dal 66enne purtroppo hanno reso il suo quadro clinico piuttosto complesso sin dai momenti successivi all'incidente. Biondi era originario di Benevento, dove in molti, all'arrivo della notizia, si sono stretti intorno al dolore dei familiari. Grazie.